Passiamo alla cronaca nera, lotterie, la Guardia di Finanza sequestra falsi gratta e vinci in tutta Italia. Migliaia di falsi gratta e vinci sono stati sequestrati in tutta Italia dalla Guardia di Finanza di Ceva, nella provincia di Cuneo, partendo da un controllo effettuato in un bar. Un'operazione analoga era stata compiuta nel luglio 2008 dalla Guardia di Finanza di Trento a cui si riferiscono le immagini. I falsi tagliandi, che sono stati trovati anche in provincia di Savona, Genova, Castelvetro, Piacentino, sarebbero stati stampati a Bolzano, Roma o San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. E avevano nomi ad effetto come Colpo Gobbo, Mama, Non Mama, La Cartomante, American Poker. In alcuni casi il gioco risultava completamente sconosciuto alle istituzioni, in altri le società emittenti inviavano comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 2003 il mancato versamento delle imposte nelle casse dei monopoli dello Stato ammonta ad oltre 13 milioni di euro. Numerose le persone denunciate, tre amministratori di società promotrici dei giochi illeciti, 97 imprenditori responsabili dei centri di distribuzione dei tagliandi, 63 titolari di esercizi dove si compravano i tagliandi. Le ipotesi di reato sono esercizio abusivo del gioco e truffa ai danni dello Stato. Grazie.